Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Altro giro, altra corsa. Siamo su Final Fantasy XVI e quindi dobbiamo andare a cacciare. Nektar! Aggiornavi, amico mio. Cos'altro dobbiamo cacciare? Ah, ecco, mi sembrava uno jaguaro, invece è Grimalkin. A pochi passi dal Falcione, la strada che porta da Dalimil alle Fauci, si trova un canyon senza uscita in cui i viandanti di notte tendono a incappare, fornendo così un costante sostentamento a una quanto mai orripilante bestia felina. La calura del deserto nelle ore diurni è così minacciosa per la vita e la parsimonia spesso usata dai mercanti nell'utilizzo dei frammenti di cristalli per le loro lampade non fanno a che favorire quell'essere mostruoso, la cui disfatta sarebbe per loro l'unica salvezza. Quindi a pochi passi da Falcione, la strada che porta da Dalimil alle Fauci. Quindi la strada che porta da Dalimil alle Fauci. Questa è Dalimil e queste sono le Fauci. Quindi, ecco, vedete, la strada che porta da Dalimil... Ah, Falcione, eccolo. Si trova qua. Quindi, ok. Però è la strada che porta alle Fauci, quindi dovrebbe essere questa. Ok, vabbè, comunque dovrebbe essere questa. Ok, andiamo. Eccoci qua. Grimalkin. Ok, diciamo che l'indicazione non era esattamente precisa. La strada che porta... Ora vi farò vedere la posizione precisa dove si trova. E non è esattamente... Non è esattamente quello che mi aspettavo di trovare in realtà. Ok, insomma, non è esattamente bisogno di trovare in realtà. E non è esattamente quello che mi pone. Il suono, oltre insieme a parte che mi pone. Eccoci qua. E noi ne sono esattamente le persone che guardano solo. No, no. Non è esattamente oltre. Ah, ma è esattamente l'indicazione. E noi ne sono... No, no. Non è esattamente presente. No, no! 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 Ok, no! 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 bene abbiamo massacrati no quanti scagnozzi mi hanno mandato dai fatti sotto tocca a te ora questo è simile a quello che ci hanno sguinzagliato all'inizio quando siamo arrivati per la prima volta nel deserto ehi 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 mi ha spezzato la guardia non 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 non